È una storia che mi è stata chiesta di raccontare per il 25 aprile, lo faccio veramente con molto piacere. È la storia di mio nonno. È una storia che comincia l'8 settembre del 1943 alla Spezia. Mio nonno era militare al Forte, lui lo chiamava il Forte. Con mia mamma non siamo mai riusciti a capire esattamente dove fosse questa caserma. Ma comunque l'8 settembre arrivò il comunicato che sostanzialmente tutti erano lasciati a se stessi, di fatto. E da soldato non decise di rimanere insieme ai suoi compagni alla Spezia, anche perché molti di questi poi finirono in Germania, ma decise di tornare a casa. Ora però bisogna un attimo immaginare l'8 settembre del 1943, quindi immaginare di essere giovani, di trovarsi in una situazione veramente inconsueta, dove ovviamente ci sono poche comunicazioni e quelle che arrivano sono anche contraddittorie. E c'è la necessità di tornare a casa con mezzi di fortuna. Così mio nonno iniziò a camminare, tornò a casa un po' a piedi, un po' in autostop e dalla Spezia arrivò a San Giovanni Valdarno. Quando arrivò a casa, fra l'altro, non aveva avuto modo di cambiarsi, quindi lui fece tutto il viaggio di ritorno con la divisa, da soldato e il moschettone, che poi si sarebbe comunque portato sempre dietro. Quando arrivò appunto a San Giovanni e entrò nel portone delle scale appunto di casa, fra l'altro le persone del posto si impaurirono anche perché mio nonno aveva gli occhi molto chiari e i capelli chiari e il viaggio sotto il sole, spesso appunto a piedi, lo aveva abbronzato, ma gli aveva chiarito ancora di quei capelli e quindi tutti si impaurirono perché pensavano appunto fosse un soldato tedesco. Comunque rimase nascosto in casa per un certo periodo e non sappiamo né io né mia mamma sa con chi entrò in contatto, quello che però sappiamo per certo è che a un certo punto decise di partire partigiano, di andare in montagna insieme a dei compagni. Quindi lui si ritrovò insieme a Guelfo Billi, Guelfo era il suo comandante. Poi abbiamo saputo dopo con la mia mamma, ricostruendo un po' anche la storia che appunto era la Castellani, che era a distanza sui Monti del Chianti, per l'esattezza Monte Domenici, e che quindi probabilmente anche mio nonno in qualche modo visse quei mesi sopra appunto le colline di Cavriglia, di Castelnuovo e però non ci ha mai raccontato niente, non ci ha mai raccontato né degli episodi che si verificarono né degli ecidi appunto che poi interessarono il comune di Cavriglia. Raccontava ogni tanto a sprazzi qualche vicenda, una di queste appunto fu l'incontro di un gruppo di tedeschi che stavano rastrellando alcune zone appunto lì dei Monti del Chianti e sappiamo che riuscì appunto a nascondersi insieme ad alcuni compagni e a non essere né visto né catturato. Però di quello che accadeva non ne ha mai voluto fare parola. So per certo che appunto c'erano degli alleati, perché lui ha sempre parlato di contatti con degli alleati. Lui li scambiava per scozzesi, in realtà poi appunto dai documenti anche storici si sapeva bene che quelli che erano nella zona erano prevalentemente sudafricani. Raccontava di come appunto li aiutassero in alcune operazioni, di come li rifornissero di armi, anche di divise. Comunque cercassero in qualche modo di inquadrarli. Quando diciamo si arrivò all'estate del 44, mio nonno appunto partecipò alla liberazione di San Giovanni il 24 di luglio. Entrò a San Giovanni insieme ad altri compagni, sempre appunto sotto la guida della sua compagnia di Guelfo. E lui si ricordava molto bene questa vicenda un po' strana di Cornamusa e di uomini in kilt che li seguivano appunto nel giorno della liberazione di una grande parata che avvenne appunto nel luglio del 44 a San Giovanni. Però la storia di mio nonno non finì con la liberazione del paese perché decise di partire volontario insieme ad altri per la liberazione del nord Italia. Fu così che appunto si ritrovò in un altro gruppo e partì per la Romagna. L'avventura in qualche modo finì in Romagna perché un giorno fu incaricato insieme ad altri di controllare un casolare e mentre si avvicinavano da questo casolare sostanzialmente partirono dei colpi di arma da fuoco e delle granate. La maggior parte dei suoi compagni morì all'istante. Lui rimase gravemente ferito e fu trasportato a Bari dove c'erano gli ospedali appunto militari. Lì fu curato e poi ritornò a casa sostanzialmente pieno di schegge e di granate senza un occhio. Quello che poi io sono riuscita un po' a riscoprire insomma guardando un po' i vari documenti è che a un certo momento io me lo trovo nel citato proprio nome e cognome nel maggio del 44 nel comando di visione posente brigata Sinigaglia Quarta Compagnia. Quindi questo diciamo è il dato storico che mi permette un po' di capire anche con chi era in contatto e come tutti i partigiani ovviamente aveva il suo nome di battaglia e che noi non abbiamo mai capito neanche perché lo avesse scelto che era Masoni. Però come tutti i soldati quando ritornò e finì la guerra non volle mai parlare dell'esperienza.